La Camera di Commercio di Teramo dice no alla delibera della Giunta regionale che ha dato il via all'iter per la fusione tra le Camere di Commercio di Teramo e l'Aquila. Lo ha ribadito il Presidente Gloriano Lanciotti in una conferenza stampa alla presenza di tutte le istituzioni locali che hanno parlato di offesa e insulto per il territorio teramano. Intanto state aspettando la pubblicazione del decreto della Regione sul Bura? Sì, noi oggi abbiamo fatto questa conferenza stampa perché vogliamo chiarire, ribadire un percorso che correntemente abbiamo iniziato da quando è uscito il decreto di riforma. Quando ci sono stati ricorsi al TAR noi ci siamo agganciati a questo ricorso, abbiamo chiesto la sospensiva e la revoca perché riteniamo che l'impianto normativo che sarà discusso l'8 di aprile dalla Corte Costituzionale sarà sicuramente annullato. Intanto è pronto il ricorso al TAR? I nostri avvocati stanno già preparando tutto il materiale necessario per iniziare un percorso di impugnare il decreto di fronte al TAR. Un ricorso al TAR è chiaro che poi saranno i giudici a decidere. Noi intanto faremo di tutto per arrivare e aspettare la sentenza dell'8 di aprile per capire bene su quale impianto normativo dovrà nascere un ente, se dovrà nascere un ente unico oppure se si azzera la legge si rimane autonomi nei propri territori che secondo noi almeno la parte della mana è la cosa più auspicabile. Credo che chi ha una Camera del genere, un territorio che ha una Camera del genere, a prescindere dal Presidente o dai Presidenti o delle Giunte, devono tenersi a carro un ente del genere perché è utile proprio per lo sviluppo. I rapporti con la Camera di Commercio dell'Aquila sono compromessi definitivamente? No, assolutamente. Poi gli uomini passano ma gli enti rimangono. C'è una posizione diversa tra noi e il Presidente della Camera di Commercio dell'Aquila. Mi risulta che non tutti sono di questa opinione, di questo rientamento. Rimaniamo basiti anche dall'atteggiamento. È l'unica Camera d'Italia su 35 Camere di Commercio coinvolte. Avete fatto un passo del genere. La cosa ci lascia perplessi e anche dubbiosi sul perché abbiano fatto una cosa del genere. Lanciotti ha ribadito che la Camera di Commercio di Teramo firmò a suo tempo la fusione perché la norma, che poi è stata cambiata, allora prevedeva l'abolizione degli enti camerali. Noi abbiamo firmato, questa è la cosa da chiarire, quando ancora la legge non era stata approvata stavano discutendo la Camera, una proposta, una bozza di legge in cui si prevedeva, si ipotizzava la chiusura delle Camere secondarie sui territori delle figliali. Noi per salvaguardare questa Camera a Teramo abbiamo deciso di fare questo accordo facendo rimanere le due Camere. L'impianto normativo poi è nato in maniera diversa. Sono partiti i ricorsi e a quel punto noi ci siamo agganciati a quel ricorso perché riteniamo che sia giusto rimanere sul territorio. Senza che allora ci fosse questa legge ancora imminente sicuramente Teramo non avrebbe fatto la fusione.